Eccoci qui, buonasera, siamo a Valdobbiatene, sempre a Valdobbiatene, destinazione Le Pianezze, per poi andare oggi a Posapuner, che è una malga sopra Miane-Kombai, quindi il tempo previsto per arrivare su sarà un'ora e 45, un'ora e 50, ci mettiamo in moto perché è già tardi, quindi in marcia. Arrivati, arrivati su Valdobbiatene, adesso un'ora e 27 minuti, anche un ottimo tempo, non sono un po' strano ancora, però la giornata è stupenda, calda, c'è neve, è bello, il panorama è bellissimo, e adesso l'obiettivo è Posapuner. Grazie a tutti. Allora, sono lungo la strada per Malga-Budoi, che è il bivio per poi andare a Posapuner, che fa troppo freddo, sono stanco e la strada è ancora lunga. Oggi niente, oggi va così, oggi mi risposta, sono caduto nella neve, sono inghiacciato, sto sentendo freddo proprio. Ora torniamo indietro, e poi scendiamo per il 1700. Ciao! 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 Sì, siamo giunti sani e salvi alla macchina, siamo scesi per il 1700, e freddo, oggi freddo, più di ieri, il freddo oggi mi ha limitato, però una bella giornata come sempre. Alla prossima, ciao! 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 Ciao!